Foglie verdi e fegato Ciao, io sono Desiree e lei è Joyce Crema di spinaci cruda con crostone integrale Iniziamo la nostra ricetta lavando gli spinaci Le frulliamo insieme con i semi di girasole e il suco d'araccia Dopodiché prendiamo il tempeh, lo tagliamo a fettine, lo saltiamo per 5 minuti Dopo prendiamo la fetta di pane, la scaldiamo in padella La decoriamo con la crema di spinaci, le fettine di tempeh, qualche pezzettino di pomodoro secco, i germogli e i semi di papavero Il risultato semplice è questo Ti aspetto in tutti i social Grazie a tutti Grazie a tutti